gentili ascoltatori benvenuti al nostro concerto settimanale di approfondimento pianeta oggi reporter ai microfoni massimo bonella dunque in collegamento da castelfranco veneto siamo in provincia di traviso abbiamo un noto personaggio lui è gianluca mancuso attore narratore presentatore direttore artistico anche di radio science tv insomma lo abbiamo al telefono e ci dirà lui direttamente chi è gianluca mancuso buonasera o ciao o buongiorno secondo poi quando andrà in onda giusto massimo questa nostra chiacchierata intanto un caloroso saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando ed un grazie di cuore a te per avermi appunto contattato per questa tua rubrica settimanale ti ringrazio davvero tanto per avermi scelto è un grande piacere nonché onore con un grande appunto come te anche amico e ti ringrazio per essere qui con voi è la cosa è reciproca gianluca allora sento che insomma stai bene la voce è buona grazie fonte di diciamo così di comunicazione importante devo dire no allora se c'ho la voce buona quindi possiamo andare avanti esatto allora vogliamo intanto ricordare tu di cosa ti occupi in generale beh sì intanto ti ringrazio di di tutti gli appelli appellativi complimenti e belle parole che hai speso per me all'inizio troppo buono e gentile ma comunque ti ringrazio sì scusami è la verità grazie massimo veramente carinissimo mi fa molto piacere naturalmente la cosa e anche mi riempie di gioia si sa insomma fa sempre piacere anche perché la gente la gente vede solamente quelli che sono nelle tv nazionali però ci sono anche degli artisti forse anche più bravi addirittura ma te lo dico io ti ringrazio massimo sempre troppo carino no diciamo che non mi permetterai mai di paragonarmi con nessuno ben più bravo e più alto anche nazionalmente parlando e però si è diciamo che anch'io faccio le mie cose nel mio piccolo qua insomma dove sono e non solo e nasco come attore diciamo fondamentalmente è la mia formazione è parte dal teatro provengo dal teatro di cui ne faccio parte e dove diciamo bazzico e sguazzo ancora ti piace massimo questa cosa un po come un'anatra nello stagno che resta lì a crogiolarsi nel suo fossato perché il teatro comunque sia è pur sempre la mia prima passione è da dove appunto provengo e derivo dove tra l'altro anche è fatto la mia formazione iniziale per i primi anni e ho anche studiato presso la scuola presso l'accademia palcoscenico che appunto è tenuta da un certo alberto terrani è un grande maestro del passato è il marito della lucia valentini terrani grande cantante lirica che teneva appunto e che tiene questa accademia questa scuola di teatro al presso il teatro stabile del veneto il teatro verdi di padova ed è anche un piacere un onore pregiarsi di essere stato un suo allievo nel senso che comunque sono quei grandi vecchi maestri di un tempo caro massimo che ti insegnano tante cose sia stare in scena sul palco vabbè io li sono approdato dopo comunque aver avuto un po d'esperienza in giro anche per l'europa grazie alla commedia dell'arte alle commedie anche locali amatoriali con le compagnie con cui avevo iniziato e poi sempre più via via su e quindi comunque era arrivato con un po d'esperienza quindi quello che il maestro diceva lo apprezzavo ancora di più perché avevo anche alle spalle un po di palcoscenico che mi permetteva di poter ammirare quello che diceva ma sono i grandi maestri che ti insegnano un po tante cose a parlare all'uso corretto della parola scandire bene le parole abbattere le finali a mettere dentro il cuore la testa e la verità del pensiero con le intenzioni giuste a praticamente e poi anche a saperti comportare in maniera anche corretta e civile e signorile nella vita oltre che in scena quindi è stato anche un grande punto di riferimento è maestro perché sono quei vecchi di una volta che molto spesso i giovani noi stessi non solo non abbiamo ma si sono dimenticati o non pensano neanche di poter avere certo è vero sì i miei monologhi sono partito con i miei monologhi caro massimo tu ben conosci e anche il grande saio rosario di radio saio che salutiamo ovviamente ah sì certo ecco per chi ci segue da altri emittenti quelle marette resto che ricordiamo che radio saio è un emittente online proprio c'è tutto anche il circuito radio saio tv e dunque la come dire mitica regia centrale esatto come dici tu con lui quando fate le trasmissioni e naturalmente è la web radio presso cui ho anche un po non iniziato perché ho già fatto qualcosa prima però diciamo in cui sto anche conducendo altre alcune trasmissioni vabbè la solita dei lunedì sera e dove appunto con cui collaboro ogni tanto ovviamente grazie anche no più che grazie mi è venuta grazie volevo dire anche in base ai miei impegni teatrali e non solo vuoi anche a volte capita cinematografici o televisivi quando capitano delle magari piccole cose e anche i vari impegni teatrali in senso lato quindi anche di letture di serate di poesie come tu all'inizio dicevi appunto narratore presentatore e varie cose per cui diciamo le versatili come si possono dire caratteristiche poliedriche dell'attore poi vengono naturalmente sfruttate nei vari campi e settori che sono correlati poi dall'arte della recitazione e quello che li va presso che di solito un attore sai deve sapersi un po' destricare in varie cose e va da sé che sia anche così poi ovvio che dipende da persona a persona per me la musica ecco tra l'altra cosa a proposito di attore so che stai girando anche un film sì abbiamo appena finito di girare questo film vabbè io lì ho una piccolissima parte un film per l'istituto luce sulla grande guerra che andrà poi in onda prossimamente presumo appunto in tv e ritirai oltre che girerà a mezzo mondo e per la regia di leonardo tiberi che è colui che ha fatto fango e gloria l'anno scorso quest'altro film molto importante diciamo che questi tre anni sono importanti per il centenario della grande guerra quindi è un triennio abbastanza ricco di cose infatti sono anche impegnato in un paio di spettacoli proprio con tema sulla grande guerra e con dei racconti in cui in uno leggo delle lettere di soldati al fronte lettere veramente toccanti poi ovvio che dipende come si leggono e come si arriva anche al pubblico però veramente incredibile pensare alle condizioni di vita dell'epoca e in un altro in cui appunto interpreto una parte di un albergatore che porta una guida alpina che porta i ragazzi nei luoghi della grande guerra e poi appunto diciamo un altro impegno che diciamo abbiamo appena finito anzi la proiezione è stata appena l'anteprima nazionale è stata appena fatta a Casalsia Rugo in provincia di Padova e questo è un docufilm con il regista, il maestro Quattrina, Mauro Quattrina è un regista storico veronese naturalmente anche qui siamo ambientati agli inizi del Novecento qua a cavallo un po' delle due guerre e si parla fondamentalmente di, anzi fondamentalmente si parla di Leonino Dazzara che è questo personaggio importante di Casalsia Rugo in provincia di Padova che è stato uno dei primi aviatori in Italia e a fare anche un campo di aviazione ne ha fatte veramente di tutti i colori nel senso buono anche per l'epoca e lì in questo docufilm praticamente interpreto la parte principale o comunque uno dei protagonisti dei ruoli principali che appunto è colui che un po' conduce la storia raccontando nei luoghi di Leonino le cose che lui ha fatto ecco Gianluca siamo praticamente fuori tempo Massimo però ecco no però ecco in conclusione se ci puoi dare un tuo indirizzo internet se qualcuno volesse appunto interagire con te ecco brevemente ti ringrazio Massimo sì anche per vedere poi i prossimi impegni che ho perché poi dipende anche quello che capita prossimamente sarò a Castelfranco Veneto finalmente nella mia settà natale pare fatta apposta che non riesca mai ad esserci e ci sono quindi vi invito, ne approfitto e poi vi do appunto i recapiti il mercoledì 6 luglio con questo spettacolo in collaborazione con questa associazione culturale di cui faccio parte e che mi hanno chiamato che è in Cantarte e il conservatorio di Castelfranco Veneto per questa serata in cui io narrerò, racconterò conducendo come quasi un umile dantesco Virgilio come dico io stesso nelle prime battute dello spettacolo il pubblico presso questo viaggio in questo viaggio diciamo nella cultura veneta quindi con brani di lirica poesia, prosa con cantanti che canteranno in lingua veneta io naturalmente narrerò recitando in italiano ed è, devo dire una cosa molto interessante perché come ogni, diciamo, locale come si può dire, cultura ognuno ha delle belle cose nelle proprie terre e come dico sempre io il mondo è fantastico proprio perché giro e vedo delle cose che poi si ripetono, caro Massimo nelle varie epoche e storie e quindi vi invito anche a questo sì, dicevo, dove trovarmi? allora, ho presso la mia casella di posta elettronica che è stracolma, caro Massimo per cui, immagino vederla non c'è ma la do è gianluca.mancuso chiocciola email.it quindi è facile nome.cognome email.it e poi, naturalmente con Radio Science dove abbiamo le dirette del lunedì sera che conduco insieme a Grande Science e, naturalmente la mia pagina in Facebook con Gianluca Mancuso Simi si trova di Castelfranco Veneto e quindi direi che è tutto Massimo, ti ringrazio di cuore del tempo e dello spazio che mi hai dedicato e do un caloroso abbraccio e saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando invitandoli a seguirci e ad andare avanti sempre alla grande grazie a tutti un bacio grazie Gianluca Mancuso io rinnovo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima settimana con il nostro settimanale Pianeta Oggi Report da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione grazie a tutti